Signori, benvenuti in questo nuovo video. Oggi mi vedete estremamente euforico perché il percorso di In Cucina Con continua. Ridendo e scherzando siamo arrivati all'ottava puntata e oggi abbiamo un ospite molto particolare. Arriva anche lui dal mondo dei motori. Secondo me, ad oggi, è uno dei più bravi a fare B-roll per quanto riguarda la presentazione delle sue cose. Voi lo conoscete come Noisy Boy, io lo conosco come Luca. Benvenuto! Ciao Luca! Ciao Uomo, come stai? Bene, grazie. E tu? Tanta roba, tanta roba. Sono assuefatto da questo tuo mondo. Da questo circo. Sì, bellissimo! Oggi me lo presenti un po' e seguo te. Oggi siamo qui perché... Sono un po' spaventato. Insomma, di solito sono a casa tranquillo per i cavoli miei a fare le cose. Ho la tua pressione adesso. No, no, no. Qua è casa. Mi raccomando, qua è casa. È un posto nel quale personaggi di spicco vengono, si raccontano mentre cuciniamo il loro piatto preferito. Dai! Tu hai avuto una richiesta un po' particolare rispetto agli altri perché il tuo piatto preferito... È il sushi. Ok. Visto che non volevo imputtanarmi con il discorso del riso, eccetera, oggi facciamo sì qualcosa di pesce, sì lo facciamo crudo, ma in maniera tale che anche tu possa replicarlo a casa per la tua dolce metà. Fighissimo! Alla grande, ottimo. Anche perché è il sushi, è il piatto tipico milanese, scusami. O sbaglio? Tutti ormai dicono questa roba, però sei un po' afrodisiaco, un po' figa, è fatturato, veloce, fast. Allora, spostati di qua, io recupero il cibo, intanto che ho selezionato un pochino di cose. Ok. Chi ha fatto prucchice, in carbonio, capito? Sì. Va pure veloce. Va velocissimo. Allora, pesciolini alla mano. Aspetta, dove ti metti? Di qua. Sì, sì, dove, intanto ci intercambieremo un po' di volte. Qua ho fatto una piccola selezione di quello che è un po' di pesce. Tu hai mai mangiato i calamari crudi? Sì. Ti piacciono? No, aspetta, i calamari no, io ho mangiato loro, scusa, sono i gamberetti. Qua, gamberi viola, tonno, salmone. Ok. Allora, facciamo così. Sai pulire i gamberi? No. Vuoi provare? Sì. Dai, proviamo. Ti metto i guantini così, così siamo belli agili, belli profumati, così le donne non si lamentano quando torniamo a casa. Olè. Allora, uno, due. Ok. Qua sotto mi recupero le ciotoline che servono per tutti i vari scarti scartini. Se non fate i bravi contro noi nella prostata, ragazzi. Mi raccomando, fate i bravi. Mi raccomando, metti like. Esatto. Ok. Questa ce l'ho anch'io, però, posso replicare fedelmente a casa. Ikea, Ikea. Banalmente Ikea. Sì, sì, sì. Io alla fine qua tanto sfarzo ma sono poverissimo. No. Quindi va bene così. Allora, il gambero come si pulisce? È molto semplice. Stacchiamo la testa. Ok. Ok. La teniamo da parte. Vedi che ci sono tre incavi? Quindi la corazza è uno, due, tre. Sì. Prendi tutti e tre insieme. C'è lo sgamo furbo. Esatto. Giri. E poi fai gli ultimi due. E se vuoi lasciargli la codina per estetica gliela lasci, ma in questo caso la togliamo. Oh, bellissimo. Come si può vedere qui abbiamo un pezzettino di intestino che questo qua non va mai mangiato perché questa è cacchina. No, non lo sapevo così. Eh sì, questo sì, è cacchina. Visto che la cacchina non piace neanche noi, ce la mettiamo da parte. Le teste banalmente c'è chi le prende, le ciuccia, se le mangia. Non ce la faccio. Questo magari è un livello pro. Esatto. Quindi io ti lascio pulire tranquillamente il gamberetto. Vuoi provare? Vado. Sei uno di quegli uomini che riesce a fare due cose insieme? No, 100% no. Cazzo, questa è la risposta di tutti gli uomini. Già che ho ascoltato, ho sentito. Ok. Ma iniziamo questo percorso. Se ci fosse qualcuno dall'altra parte che non ti conoscesse, cosa gli diresti di te? Allora, nasco come motociclista, appassionato, facciamo così, e da otto anni racconto le mie avventure in sella. Ok. Ci sta? Sì, sì. È abbastanza real. Credo di sì. E questo mi ha portato ad avere poi un pubblico abbastanza vasto italiano. Ok. E sperimentando ogni genere di moto, quindi dall'enduro alla strada, principalmente strada, la pista. E non so fare due cose fatte insieme, quindi aspetta. Vai. E devo togliere l'intestino. Sì. E vedi che c'era già qua, se volendo, con le mani riuscite di darlo via. Eh, sterda. Hai visto? Eccolo. Guarda che l'alba. Ma non sto più sboccare. Ok. Ok. Non è giusto, metto. Bravo. Ehm. Che cazzo stavo dicendo? Eh, sarà difficile. Sarà una lunghe intervisto. Sto usciando un attimo dei gamberetti. Cioè, sopportatemi un secondo. Dopo queste avventure ho fatto anche una bellissima esperienza. Che è l'università. Ok. Mi sono iscritto a tre anni. Ho fatto un triennale. A lo IED? Design del prodotto allo IED, qua a Milano. E ho avuto la fortuna di conoscere, come tante volte nella mia vita, degli allineamenti di pianeti, io dico. Ok. Ho avuto la fortuna di conoscere Matteo, che è mio amico e socio, che salutoci a Matteo. Con il quale poi ho fondato, ho aperto la società Nozistyle. Ok. Dove? Cos'è Nozistyle? È un tetto, un cappello, un atelier, dove noi personalizziamo le moto. E facciamo cose nel mondo moto. Però tu le personalizzi solo ed esclusivamente di estetica, giusto? Sì, principalmente sì. Intervieni anche con magari lo scarico. Bravo, bravo. Performance motore, quindi preparazione un pochino più pesante. non la facciamo perché, cioè non la facciamo noi direttamente, perché non è nostra competenza. Ok. Io, secondo me, poi questo, se una cosa non ti compete non la fai. Sono d'accordo. Molto meglio affidarsi a persone che ne sanno, che lo fanno di mestiere da tantissimo tempo, quindi perché devo inventarmi io un mestiere? No. Da quale esigenza nasce Nozistyle? Nozistyle nasce, ma non è troppo neanche un'esigenza, ma è una passione. Ok. Io personalizzavo le mie moto da sempre. Cioè, non so se ti ricordi l'MT07, cromata blu con i cerchi giallo flu? Sì, certo. Molto sobria. Sempre colori blu. Elegante. Elegantissima. Filippino, però... Esatto. Però si stava. E, peggio ancora, l'MT09, perché l'MT07 me l'ha rubata. Questa è cacca? Sì. Perfetto. No. No. Ti chiamano Morandi. Che schifo, cazzo. Dopo che me l'ha rubata l'MT07, ho preso Bravish. Non sono passato da 09, che ho sempre reso unica. Io sono allo sesso gamberetto... No, quarto gamberetto, tu sei all'ottavo. Vabbè, ma... Professionista. Meno male. Sì, è chiaro. Sono voluto dire che io avevo dei problemi. Ho preso la 09 e chiaramente ho dovuto personalizzarla, perché non è che ho dovuto. Mi piaceva personalizzarla. Devevo rendermi unico, un po' spavaldo, un po'... Un po' maranza, diciamoci la verità. Beh, diciamo che volevi farti notare. Sì, principalmente sì. E anche perché secondo me è una... Grazie. È una cosa intrinseca a noi motociclisti, farsi notare. Ok. O sbaglio, non so se... Sono d'accordo. Vero, un po' quell'essere un po' figo, sentiresi figo. In ogni caso... Guardarsi nella vetrina. È bravo, fondamentale, guardarsi nella vetrina. Impostazione giusta. Sono sul serbatoio, sono troppo indietro. Sia mai che mi vede una ragazza da lontano e dice... Chi è questo qua? No. No. Deve essere un figo. No, no, io sono d'accordissimo. In ogni caso... È un motociclista. L'ho personalizzata, viola quei cerchi fluo. Decisamente discutibile l'abbinamento. Sì. Però, oh, raga, ha funzionato. Cioè, nel senso, sono anche diventato un po' personaggio pubblico per quello, no? Ok. Quindi, diciamo che la build che ti ha fatto decollare è stata la 0.9 viola? Sì, sì. Ok. Tutti gli effetti sì, perché ero anche molto inesperto con la 0.7. Ok. 0.9 è già un motone più grosso, più importante, definitivo. E poi è stato il periodo in cui l'MT-09, cazzo, ha spopolato. Sì. Cioè, è piaciuto tanto il mio modello, no? Sì. Con quel musetto un po' robottino, un po' felino, non so. Sì, ricorda un po' Megatron di Transformer. Sì. Ah, quella roba lì. Poi, sempre io, chiaramente, spavaldissimo, stessa questione, spavalda, scarico, chiaramente, bello cattivo il racing. Lui non ha l'intestino? Che cazzo ha mangiato durante tutta la sua vita? Può essere, no, proprio sì, boh, a volte ci sono, a volte no. Però... Il gambler che non ha mangiato mai? Ok. A stonfine? Fine. Ok. Direi che questa prova l'abbiamo passata, tranquillamente. E chi non si recca le dita, le dita, le cose sono. Esatto. Che schifo. A questo punto mettiamo via tutto. Ok. Questo lo teniamo da parte. Che bello pulito. Adesso ti faccio vedere la pulizia del calamaro. Quello non l'ho veramente mai fatto. Così poi, con calma, chiacchieriamo e andiamo avanti. Allora, questo per chi non lo sapesse è un calamaro. Benvenuto alla nuova puntata di Quark. Com'è composto un calamaro? Molto semplice. Abbiamo gli occhietti, quindi questa è di base la testa. Tutti pensano che la testa sia qua, ma in realtà la testa è qua. Eh, no, è chiaro, è fuori. È questa. Certo. Qui abbiamo un occhiello, ok, che è tipo molto satisfying su TikTok. Questa roba diventerebbe super virale perché ricorda il pombrufolo. Ok. Ok. Qui tiri, viene fuori tutto. Gli occhietti non si mangiano, quindi li salutiamo. Ok. Il ciuffo è una cosa che va bene, quindi la teniamo di qua. Qui abbiamo le alette. Ma senti che sound? Sì, sì, è il sound effect. Senti, senti. Ok. Va bene. Togli l'interno che c'è, pensa che hanno un osso, che è una cartilagina. Guarda che carina che è. No, sto per sboccare, aspetta un attimo. Cos'è sta roba? È quello che gli dà la struttura. Ah, giusto, se no. Non c'è un pezzo di plastica. Sì. Pazzesco, eh? Cristo santo. È assurda come roba. Ok, questo via. Zic. Queste le alette non ci interessano. Questa è la testolina. Se ci fai caso, guarda che c'è, tipo una sorta di linea. Sì. Ok, tu le incidi. Zic. E lui si apre. Che figata. Io adori calamaitland. Esatto, questa è piena di sabbiolina, che poi intanto accuratamente toglieremo. Wow, ma c'è tipo una pattina come se fosse plastificato? Sì, all'interno si lo ricorda molto, perché è una cartilagina. E si toglie? Sì, sì. Adesso lo faccio qua sopra, così non sporco tanto il tagliere. Quella è tutta sabbietta. Sì, esatto. Ciocchiamo sotto l'acqua. Posso? Devi, devi. Vuoi provarci tu? Miglia. Fa un po' senso, eh. Strano, eh. Una consistenza assurda. No, ma mi fa stranissimo. No, lo tolgo dopo. Allora, com'è che era la pronta? Oh, oh, qua. Bravo. Lì. Ok. Adesso anche taglio sotto. Ma perché tu conservi la codina e non l'hai vista? Cioè, codina. In realtà sono i baffi. Cazzo, non hai mai mangiato il calamaro fritto? Sono questi? Eh, certo. No, i polipetti. Eh, certo. Sto male, ragazzi. Il ciuffo del calamaro è questo, eh. È perché non l'ho mai visto così ciuffato. Togli qua il cosino, l'hai tolto, giusto. Qua, esatto. Ma dai. Adesso via le alette. Allora, via le alette. Sono i flap quelli, quelli. Le alettine. Esatto, vai. Che fanno drag. E come le tele, le vedi? Queste qua, infili con le dita. Vai, vai. Però può stare il pollice dall'altra parte. Sì, 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 è vero. Dov'è? Ok, esatto. E adesso frup. Che disastro. Queste non ci servono. No. Sono anche gara. Queste sono buone da far fritte. Crude non si mangia. Vai. Ma questo mi fa veramente impressione. Guarda che... Oh no, aspetta. Se ne ha rotto un pezzettino. Ci sta. Guarda che roba. Ma vai che roba, raga. È assurdo, eh. Cioè, la natura crea la plastica. Non è vero? Non è di plastica. Sì, perché è pesce finto. Questo l'abbiamo comprato in barattolo. Wow. Quindi, adesso l'allineo. Vai. Ah no, prima tolgo tutto dentro. Togli... No, lo dividi a metà, come abbiamo fatto prima. Esatto. Svuotalo. Ok. Sboccolato, sembra. Quindi qua c'è una linea. Esatto. Levi. Cioè, proprio deve essere leggerissima, che taglia tanto. Figga. Eh. Ok. Ok. E adesso cerchiamo di sgrattarlo via. Esatto. Occhio a non far partire il coltello, perché sennò poi... È un disastro. Vabbè, tanto c'è il pronto soccorso qua davanti. No, no, mi dico così, che mi... No, mi impanico. Taglia così tanto? Taglia tantissimo. Cioè, tieni presente che quello che stai tagliando tu è carne? Sì. Ok. Quindi, solo taglia. Dai, bastarda. Maia. Ok. No, no, dai. Oh, dai. Beh, ma la manità ce l'hai, eh? Ci sono solo 18 commensali che mi stanno guardando, che stanno attendendo il cibo. Ok. E adesso questo qua lo sciacquiamo. Nella mia testa è così. Eh, beh, la vita da ristorante è una vita così. Una vita di corsa. Sempre di corsa. In realtà dentro sono così loro, tranquilli. Scriviamo il calamaro. Esatto. Però, dopo l'ossaggio. No, beh, che cazzo. Farza, tutta la fatica che abbiamo fatto, se non l'assaggi c'è qualcosa che non va. Lasciremo fuori la carta, so che è antiestetico, ma ci serve. E adesso vi faccio vedere. Qua, tac, così. Noi andiamo a togliere tutto questo strato qua. Questa mini pellicola, vedi? Ah, e che cos'è? È come se fosse la pelle, sì. Quello che ci rende poi, ce lo rende un po' sguiscione in mano, no? Senti che... Così scivola tanto. Invece se tu poi vai a toglierlo, togli tutto bene. È come se fosse la sacca dello stomaco, più o meno. Poi, è brutto da sentir dire, ma in realtà è una cosa normalissima. Mi sto togliendo la sacca dello stomaco. Sembrava figa... È tipo quella del salame, cazzo. Esatto, esatto. La pellicina del salame. Ok. Quindi, insomma, questo è. Ma torniamo a noi. Il discorso che mi stavi facendo prima. Quindi, quello che ti ha lanciato un po' sulla luna è stato il discorso della... Toglili pure i guanti, così adesso lavoro io, così stai tranquillo. Bravo, io ti guardo e giudico. E ci racconti tutto. Anzi, ti faccio... Vai Luca! Vai! Vai uomo! Vai uomo! Salutiamo Danny. Ciao Danny! E quindi mi dicevi, hai voluto fare questo progetto della 09. I colori, la forma, scelta tua, ispirazione... Ti sei ispirato a un... Fammi capire. Sì, allora sì. Entriamo nel mondo noisy. Mi sono un po' ispirato effettivamente a dei personaggi che giravano in Germania. Aspetta, perché tu ti dicono, ti sei ispirato a Noisy Boy che è il personaggio... Il mio stile. Esatto, ma non c'entra niente. No? Anche il tuo nome? È un allineamento di pianeti. No, 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 non c'entra niente. Che cazzo dici? Vai, allora sono... Per chi non lo sapesse è un film stile box che c'era la storia che... Robot Box. Esatto, Robot Box. Dove il personaggio principale si chiamava Noisy Boy ed era viola e giallo. Esatto. Però non c'entra assolutamente niente. Cioè, era un di più. Però in realtà io mi sono ispirato a un setup di una moto che ho visto sui social. Ok. le prime foto su Instagram. Quando Instagram era solo di foto, non era di video. E di figa. Saluti. E ha un ragazzo in Germania che andava di modo un po' a impennare, fare un po' il maranza con le moto. Ecco. Andate a vedere su Instagram adesso. German Most Wanted si chiamavano. Non so se sono ancora in circolo... Era un gruppo di persone? C'è un collettivo? Sì, ma era più una figura, rappresentata poi da una figura sola, che era questo tizio. Chiaramente tutti i volti coperti, quindi con i caschi, nessuno sa mai la faccia, eccetera. E aveva questa famosa R1. Ok. Viola sopra, sotto, gialla fluo. Ok. E quindi ho detto, cazzo... Che figo, è stato un tributo. Sì, ma... Cioè, poi non è che ti aspetti di arrivare a un tale risultato, chiaro. Ok. Quindi, figata, mi sono ritrovato poi a... Cazzo, ha funzionato, no? Il setup. È piaciuto? Ok. Adesso tornassi indietro e dico, ma che cazzo faccia? Cioè, una roba... Beh, ma erano mode, è normale. Sì, ho capito. Quando c'era la Caffini, c'era la Scrambler... Cioè, quella... A livello d'amaranza proprio, no? Che adesso, chiaramente, non la farei mai. Beh, adesso posso dire che sei diventato molto più elegante nelle cose che fai. Sì, no, meno male. Cioè, grazie. Non me lo aspetto, questo commento. Infatti, quest'anno l'abbiamo rifatta come tributo. Ok. L'anno scorso. L'abbiamo presentata al nostro evento privato Motosalone. Ok. Viola e bronzo adesso, uno champagne bronzo, che è molto più educato, più bello, anche alla vista mi appaga. Ok. Quindi, è un'evoluzione. Io ho visto un minimo di evoluzione che hai avuto tu nel tempo, nel senso che sei partito da un mini garage, con il box di casa tua, col baffo, con il tuo papà, eccetera, eccetera. E poi, cioè, il salto quantico l'hai fatto quando hai aperto la società direttamente con te o hai detto... No, no, sai che ci siamo goduti tutto il processo, ma step by step. Ma realmente è così anche adesso, che già ci sentiamo stretti, che abbiamo cambiato location l'anno scorso. Eh, ovviamente. Perché pian piano assumiamo il personale, iniziamo ad essere un pochino molto più grandi. E cazzo, stiamo già pensando ad espandere. È un po' il concetto del vaso, no? Ma con la piantina, quando coltivi qualsiasi cosa. Inizia con calma il garage. Poi ci siamo ampliati, secondo step, con la location su strada, insieme al nostro ex docente di Jed, che ci ha preso sotto la sua ala. Come facciamo il bimbo? Bravissimo. Mi piace tutto io. Garage 27. Ciao Cristiano, che saluto. E da lì poi abbiamo detto, vabbè, facciamoci le cose per i fatti nostri, perché ci sta. Hai l'età per farlo. La voglia di farlo, cazzo, buttati, no? Ci sta. Che è un suggerimento che dico a tutti, raga, fatelo, buttatevi. E così è stato. Quindi siamo messi da soli del 100%, dopo due o tre anni con Cristiano, con garage 27, ci siamo messi, no cazzo dico, due anni da garage 27, abbiamo fatto lo step da soli quest'anno. Abbiamo compiuto a febbraio un anno da soli nel nostro nuovo atelier. Dov'è la sede? In che via? Ma qua dietro è in via Irolo 36, che è zona Zara, Istria. Ok. Qui nel nord di Milano. Ti capita che passano a trovarti? Sì, 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 sì. Ma giusto, guarda, ieri sono passati due ragazzi da Palermo. Ma pensa. Che follia. Che sono saliti a Milano. Ah, che bello, ma se vai a visitare Milano. No, 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 ci sono qua per sua opera, per vedere l'atelier. Ma vai a vederti Milano, che cazzo ci fai qua? Grande, mi ha portato, mi portano i doni, o vino o cibo. Ok. Grazie, raga. Sempre ben accetto. Esatto, bellissimo. E poi sì, mi vengono a trovare ogni tanto. Non tantissimo, perché per fortuna poi scanniamo quel lavoro che siamo sempre in ballo, in giro. È raro che ci trovi lì fermi, ecco, statici. Però sì, mi vengono a trovare. Quanti siete adesso a lavorare? Allora, adesso siamo io e Matteo, chiaramente il mio socio. Poi abbiamo un altro Matteo, che è fotografo e videomaker. Un altro Matteo ancora, di solito sono tutti Mattei, te lo giuro. E un altro Matteo che ci aiuta nella parte di videomaking. Il montatore video, Antonio. 3D, Daniele. 3D e renderista, anzi, cucina, eccetera, figata. Ok. Ti giuro il nome. Sì. E basta. Ci servirebbe un altro supporto video. Perché... Salve. Possiamo chiederlo. Se qualcuno di voi monta video, raga. Possiamo chiederlo. O lui, direttamente. Te lo rubo. No. No. Perché si fa fatica. Ho visto ragazzi anche bravi, ma che se non stai dentro ai tempi dello youtuber, che siamo un po' psicopatici, se registriamo la domenica e io martedì voglio il video, lo faccio. Anche perché lo faccio io, perché tu non puoi farci. Esatto. Lo faccio io. Sì, perché noi sappiamo qual è il lavoro. Tu, quando è che... Per esempio, ecco, questa era una domanda che volevo farti prima, però me la sono tenuta per adesso. Io riconosco in te una capacità mostruosa nell'esprimere un sentimento tramite immagini e suoni visti su YouTube. Perché a me è tipo... Ho visto quello dell'F3. Sì? Eh beh, spaziale. Anche perché lì raggiungi anche l'apice... Ma è follia quella roba. Sì, ma raggiungi anche, cazzo, che ce l'hai fatta con le tue gambe, mani... Chi ha notato quel video? Il montatore, però. Ok. Mi ha dato una mano, sì. Quello invece che... Però lo pensi, lo scrivi insieme, trovi la location giusta per fare le riprese in bianco e nero, la chiacchierata. Quella della 09, invece, è quella quando l'hai fatta azzurra e bianca. Ah, beh, è una delle... Sì, ma se lo riguardi adesso, te la fa piangere quel video, in confronto alla qualità. L'hai fatto sempre tu o l'ha fatto un videomaker? No, è un mix, montato io, riprese del videomaker, che chiaramente ero in terza... Beh, però era comunque 2004, quindi quattro anni fa, cioè, lo riguardi adesso, ovviamente con un occhio critico, dici sì, però... Guarda che ogni anno è pazzesco. Ma una duronata di notte, eh. Sì, vero, vero, però ogni anno fai degli step a livello di videomaking che è pazzesco. Anche perché l'attrezzatura cambia. Sì. Cioè, il primissimo video, il gimbal, adesso, noi siamo abituati a ironing, tutto elettronico, figa, fai tutto così, tutto morbido, quelle riprese. Ma prima era stabilizzatore con macchina e peso. E peso. Peso, raga, cioè, vuol dire che tu, quando andavi magari a 100 all'ora, col bagagliare aperto, tu si sbilanciava tutto, cioè, ma delle scene... bellissimo. Però sono esperienze. Ok. Cioè, anche qua, magari, in cucina sicuramente sarà capitato, c'è stata un'evoluzione. Tantissimo. No, tantissimo. Com'è la cucina? Tantissimo. Allora... Evoluta, no? Immagino. Tieni presente che solo la base sulla quale ti appoggi e la lama che ci lavora sopra ti determina un tipo di risultato. Tu immagina quanti acciai ci sono, quanti tipologie, eccetera, quindi lo ritrovi. C'è da dire che se ne accorge solo ed esclusivamente un occhio molto preparato, perché io che lo faccio tutti i giorni, posso dirti, questo è un buon acciaio, quello è un acciaio della madonna. Certo. Ok, certo. Sì, sì, sì. Banalmente, guarda, riprendendo questo discorso, se io ti faccio sentire il rumore di questo, ok, senti com'è diverso da... Ulla! Ok? Ma perché? Perché questo è fatto a mano, ripiegato più volte, stratificato d'acciaio, damascato. Perché? Perché il suo lavoro è quello di fare la sfilettatura. O questo. Ma perché? Quindi determini con... Senti che roba. Però vedi, questo fa questo. Wow, ok. Ok, e io ce l'ho da 15 anni. Figurati, guarda come torna in bolla. Cioè. Si piega ma ritorna nell'arte. È assurdo. E questa è fusione unica, quindi manico e lama sono la stessa cosa, qui no. Comunque sono tutti gli oggetti di design pazzeschi. Sono dei lavori assurdi. Ma guarda anche questo. Questo? Senti che lo capisci adesso un damascato. Senti? Eh, qua entra un tecnico, eh. E poi metti like perché se no mi... Bravo. Però vedi, questo è il legno, ha una pressofusione dietro perché è dedicato con uno, insomma, con uno chef. Insomma, ci sono tante cose diverse. Ogni roba ha il suo utilizzo, no? Dove metto? L'importante è che sia nella sede. Detto questo... Bomba. Che rapporto hai con i tuoi fan? Molto bello. Molto bello. E... Tra l'altro... Quando succedono certe cose anche recenti di altri... Fedez, Ferragni, eccetera, dici cazzo... Quando hai un rapporto così bello, è un pregio. Ok. Cioè, dai ancora più valore, no? Ok. Al percorso che hai fatto. Esempio, noi ogni anno facciamo un meeting gigantesco che è il motosalone, no? Certo. Quindi realizziamo... Perché tu non vai in EICMA. Bravissimo. Cioè, abbiamo fatto questi esperimenti di tre anni così. Qua dietro, tra le altre cose. Qua dietro, sì, in Gavolenti. Ed è pazzesco che vengono a trovare solo te. Rinunciando, tra l'altro, alcune volte ad EICMA. Esatto. Rinunciando ad EICMA vengono a trovare Noisy Style, i nostri lavori, vengono a vederci dal vivo, chiacchierare, perché poi a me piace anche... Stare in mezzo alla gente. Ma anche la chiacchiera, io ci tengo, capito? Cioè, abbattiamo ogni tanto quel muro dei social che è figo, tutto bello, ma... Cazzo, dai, via chiacchierare. C'è un motociclisto, capito? A me piace un po' la chiacchiera da bar, per intendersi, no? Sì, 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 sì. Tipo, hai visto quel modello, hai visto questa roba. Ma sì. Sì, infatti poi riesco col mal di gola che non ho più voce, però sono stracontento. Cioè, è la cosa più bella e fa un strapiacere. Come ti è venuta in mente l'idea di fare un Noisy Evans nel quale presenti le tue moto, eccetera? Cioè, non presentarsi a EICMA? Certo. Come genericamente fanno tutti? Ma allora, come sempre allineamento un po' di pianeti che senti... Ah, questo è il segreto? Questo è il segreto. Ah, il sale, cazzo. E c'è un po' di salve. Cioè, è stato il periodo del Covid, no? Certo. Cioè, è stato il Covid, quindi... Credo che qualcuno di loro se lo ricordi. Vero? Mannaggia, la miseria. E dovevamo inventarci qualcosa di nuovo per... Stare con la gente, ma in maniera sicura. Bravo. E poi... Stava perdendo tanto l'effetto EICMA. Ok. In quel periodo lì, cos'era? Tre anni fa. Sì. Quindi si parla del 2021. Esatto. Le case costruttrici rinunciavano alla presenza, non c'era BMW, non c'era... Chi è che non c'era? KTM, non è vero. Ducati anche. Ducati, se non sbaglio, ha rinunciato. Insomma, non sentivo più quell'ebrezza di dire, cazzo, andiamo ad EICMA a far casino, che figata. Ok. Quindi ci siamo inventati questo famoso motosalon, no? Ok. Questo ritrovo solo dedicato a noi. Piccola nicchia, piccola, che poi sono venuti a trovarci in... Quanta gente c'era? Dai 4.000 ai 5.000 abbiamo contato. Porca puttana. Tre giorni. In tre giorni. Eh, venerdì, sabato e domenica. Cioè... Spettacolo. Figata totale. E... Quindi, l'esigenza in realtà nasce da... Cioè, l'idea nasce da questa esigenza. Da sperimentare qualcosa di nuovo, per tirare sempre in mezzo il pubblico. Ok. E divertirci, che è quella lì la base. Beh, gran figata. Si unisce al fatto che noi realizziamo special, quindi molti anche del mio settore fanno fatica a esprimere tutti i dettagli, la vernice bella, l'accessorio giusto, eccetera. Sì, perché... Se vai a Decma, raga, c'è il mondo di... tutta roba figa c'è a Decma. A parte che la gente è tendenzialmente là per fare le foto e toccare alcune le fighe. E poi, soprattutto, Decma, tu vedi tantissima e tanta roba bella che tu esci e non ti ricordi niente. Se non... Le foto che hai fatto, le robe... La panigale o una tipa che hai visto. Quindi, figata che vieni solo a vedere le nostre moto, ti godi un attimo l'experience motosalone, ti fai un'oretta lì, fai quattro chiacchiere con noi e ti vedi finalmente le moto fatte bene. Qual è il progetto al quale sei più legato? Se ce n'è stato uno o se ce n'è uno. Sì, a voglia, a voglia. Ma in realtà due. Allora, il primo, 100%, che è il motivo per cui sono qui, tra virgolette, è l'MT09. Cioè, io sono diventato personaggio grazie a quella moto. Grazie alla 09. Che non c'è niente a fare. Alla fortuna, alla 09, alla mia perseveranza nel fare i contenuti, però all'MT09. L'altro progetto fighissimo, secondo me, è l'F3 prototipo. Porca puttana, Luca. Eh, sì. Porca puttana che mezzo. Eh, quella sì. No, lo stavo facendo vedere oggi a Manuel, che lui non ti conosceva, non sapeva nulla del tuo mondo. Gli ho fatto vedere. Porca puttana. È bello. Ma quel muso lì, l'avete fatto fare voi? Sì, abbiamo porato noi. Puttana, Eva. Perché era, secondo me, un difetto dell'F3, che non è stato mai modernizzato, era il faro. In caso c'era ancora la candelina dentro, capito? Quella già detesto. Per rendere un po' vivace, un po' moderna, abbiamo cambiato il faro, il musetto. Prendendo un kit di carene racing. Ok. Molto più figo. Ma lì il progetto nasce da te, lo passi al ragazzo che fa 3D e poi nasce l'idea e lascia il fisico? No, lì abbiamo bypassato il 3D. Ok. Siamo andati direttamente proprio in action. Dremel. Così? Disegnino. Allora, chiaramente faccio il render a monitor, un attimo, per capire la direzione, no? Ok. Il famoso render, la vista laterale, la vista frontale, che... Ovvio, classico. Ti serve da guida. E con la proposta grafica, eccetera. Ti fai un'idea e poi parti con i lavori. Però abbiamo subito... Cioè, boom, Dremel, fatto... Pronti via. Sì, sì, pronti via. Verniciato. I cerchi dietro? Dietro abbiamo... È un'azienda. Avevamo un semi lenticolare, Jonic. Ok. Tra l'altro è sempre di qua. Che a noi piace un sacco questa cosa, che lavoriamo tantissimo con artigiani, piccole e medie imprese italiane. Io ti ho sentito... Secondo me è una figata è quella. Ti ho sentito dire una cosa bellissima. Nel video. Che è da soli non si va da nessuna parte. Ah, adesso quanto è vero. Sì, sì. Ma l'ho capito dopo, eh. Prima ero molto più spavaldo. Chiaramente, forse, per l'età anche. Quando sono partito a fare YouTube. Ok. Che non era ancora un lavoro. Mi facevo i cavoli miei e viene sempre bene, chiaramente. Ok. Ma fino a un certo punto. Cioè, quando vuoi veramente spingerti... Fare quel passo. Sì, non puoi farcela da solo. Ok. Di testa, di competenze. E poi, cioè... O sei un pazzo presuntuoso che fai tutto da solo e... Boh, difficile. Molto difficile. Soprattutto nel 2024, secondo me. Fare le cose da solo è impossibile. Cosa pensi? Io sono pienamente d'accordo perché... Allora, io arrivo da un mondo dove, quando gestisci 11 ragazzi, in una cucina... È un lavoro, eh. Sei una fottuta macchina. Sì. Cioè, è come veramente un transformer, nel senso che... Arriva la comanda, parli con lo sguardo, la leggi, ti rispondono in 10. Sì, certo. Capito? E ti gasi, cazzo. E' una roba super adrenalinica. Infatti, quella è l'unica cosa che mi manca tanto del ristorante perché... Io arrivo da quel mondo lì. Dalla squadra? Sì. Dalla squadra? Dal team. Cioè, manca lo spogliatoio o una squadra? Sono d'accordo. Sono pienamente d'accordo e sono contento che la pensi anche tu così perché... Purtroppo, là fuori è pieno di gente convinta che condividere sia sbagliato. Io, per questo, come ti dicevo off camera prima, il significato di... Raccontare gratuitamente le cose e vivere un'esperienza insieme è un modo di condividere. Certo. E credo che ci siano persone che sono predisposte a farlo e altre meno. Ma non tollero chi non è disposto a farlo che giudica chi lo fa. Dici? Cioè? Cioè. Non mi è ancora capitato. Sarà che ogni tanto vivono in modo dei sogni. Il classico hater che ti dice sei un cretino, sei un coglione, non sei capace. Ma ti scrivono queste robe? Non ci credo. Ma non hai capito. Ah, ma perché come cucini non si fa così? Mia madre lo fa non male, mia nonna, non c'è un cazzo, sei un brucia soffritti. Sei un brucia soffritti? Hashtag sei un brucia soffritti. Scrivete qua sotto se siete arrivati qua. Brucia soffritti. Quindi succede, succede. Però è bello vedere... Tu di che anno sei? 97. 97. Io ho dieci anni in più di te, figurati. No, è stato molto bello l'F3, come è andata poi a finire. Sì. Storia pazzesca. Se vuoi raccontare... È vero che hai già fatto un video, però... No, no, ma... Cioè, ma... Sì. Ti assicuro che viverla è un'altra roba, perché... Cioè, considerate che chiaramente io faccio l'annuncio su Subito, no? Esatto. Subito. Potete dire che secondo me è un ottimo strumento veloce e dinamico. Faccio l'annuncio di una moto non banale. Cioè, iniziamo a parlare di cifre, ma anche un po' importante. Ah, eh, sui 20.000. 20.000. Sì, la richiesta. Che è concreta. È in linea. Cioè, non ho sparato... Non volevo fare il... Il cifrone. No. Eh, l'hai venduto anche in pochissimo, credo. Inizia. Ma aspetta, perché c'è, non è scontato, no? Mi scrive... Tra i cento... No, cento no. Fai una cinquantina di persone che mi hanno contattato, realmente interessati, che poi alla fine svaniscono, eccetera. I sognatori. Un po' sognatori. Eh, vabbè, provi di stargli dietro. Arriva lui. Un messaggio secco, quattro parole fa. Ciao, sono interessato. Già uno che parte così... Secondo me è una sola. E... Chiamami. Lo sento, lo chiamo. E cazzo, mi risponde... Lo senti la vocione, no? Quindi... Capisci che non è un tuo coetaneo. No, non è un mio coetaneo. Probabilmente non mi segue, non mi conosce. Ciao, posso venire a vedere la moto? Vieni a vederla. Cioè, mi piace il fattore, il fatto che mi ha detto, vieni a vederla dal vivo, perché è un'altra roba. Certo. Cioè, non ti limitare all'annuncio, stai anche spendendo delle cifre importanti, vieni subito a vederla. E si presenta un sessantenne. Alessandro, ciao Alessandro. Ma straspavato. Sai tipo proprio il milanese imbruttito? Certo. Per eccellenza. Ok, lui. Bellissimo, il mio sogno. Il mio prototipo di persona. Il milanese imbruttito, e fa, no, vabbè, ma bellissimo. Io l'ho presentata col telo, gli ho fatto proprio lo show, bellissimo, perché ci tengo. No, vabbè, Luca, ma figata, ma non è per me, è per mio figlio. Lì mi sa accesa la lampadina. Dato, cazzo, come per tuo figlio? Sì, sì, mio figlio ha già il KTM 790. Ok. Voglio avere una moto, una seconda moto in famiglia, più figa, più premium, che possa usare ogni tanto, non sempre, che è top, perché l'F3 prototipo non va sotto sempre, perché è un po' delicata. Cazzo, tutti, l'allineamento di pianeti, no? Che torna, e gli ho detto, ascolta, Alessandro, se sei veramente, per risposto, interessato a sta cosa, a prenderla, facciamo, raccontiamolo. Che figata. No, ma bellissimo, il mio figlio ti segue da sempre, ha seguito tutto il progetto, sa tutta la storia, ti segue da un sacco di tempo, facciamolo. Bellissimo. Cioè, ma vai a immaginare che, cioè, un signore, perché alla fine è l'età di mio padre, e cazzo, possa mai prendere un armato del genere, organizzare una roba del genere per il suo figlio? Bellissimo. Sarà stupenda. Commenti sotto al video, bellissimi. Posso dirti che mi sarei aspettato una reazione più esplosiva da parte di... Beh, sei scioccato. Allora, vista in video... È difficile, guarda che le reaction, anche io, sono molto uno che... Sono molto euforico, cioè, sono così anche dal vivo, cioè, mi stupisco perché... Oh mio Dio, un avocado, cioè... Perché mi gaso. Poi sì, poi non siamo tutti uguali. Altri passano magari in silenzio, anche quando consegno i progetti Noisy Style, alzo il telo, sono così. Fine. Però dentro magari sono... Però dentro hanno un'esplosione, non lo so, immagino, perché poi sono contenti. Altri, come me, cazzo, fanno un po' vedere di più. Beh, lui si è comporato bene, secondo me. No, no, è stato... Però io, cazzo, sai... Anche perché tremava, l'hai visto le riprese che era così? Fanno come mia. Dal Begnamino, consegnata così, figo. Ah, arrivo io. Geniale. Beh, lì, faccio finta di niente, mi presento come se non avessi mai visto, in realtà, sapevo benissimo chi fosse, il padre. Conosco il figlio, cazzo Silvestro, bellissimo. Per me è stata... Infatti, ho colto l'occasione, ho detto, facciamoci il video perché non mi capiterà mai più una roba del genere nella vita. Certo. Progetto così bello. Ho consegnato a un ragazzo fedele, a un follower. Figgissimo. È stata veramente una figata. Sì. Riprendendo quello che dicevi prima, è una domanda che faccio un po' a tutti. Tu frapponi un personaggio tra te e la telecamera e chi guarda? O sei Luca sempre o Noisy ogni tanto? Allora, posso dire onestamente? Vai. Magari dicono, ah, no, io sono così, anche avanti a... Io in realtà, forse non ero, io non ero così prima. Cioè, YouTube, YouTube mi ha cambiato perché io ero introverso, io mi facevo i cacchi miei, cioè non avevo Facebook, sai quando partiva, no? Il social era iniziato con Facebook. Ma era proprio l'animaletto indifeso, non quello bullizzato, non il bullo, quello a metà della classe, no? Sai, il classico che è normale, che ti fa la battuta ogni tanto fuori posto, fa ridere la classe, ma poi non rompe il cazzo. Ok. Io sono così, in realtà. Non hai ragione per la storia. Io sono così. Quindi poi YouTube mi ha acceso, mi ha sbloccato un modo di fare, sì, un pochino più loquace e basta, ma mi ha tramutato alla persona e ai personaggi che sono adesso. Ok. Ma è esattamente la stessa cosa, c'è anche il fingo davanti alla videocamera. Ok. Di norma affronto la vita col sorriso, anche perché, cazzo, c'è, infortunato di così, ho fatto il percorso di su di giusto, guido le moto, ho fatto il lavoro... Sono d'accordo. Mi sono creato il lavoro dei miei sogni, tra virgolette, perché lo sono fatto per i cacchi miei, è lavoro, perché come te sicuramente ogni tanto torna a casa e dici che due coglioni. Però lo fai con un'altra roba. È una componente, Luca, è una componente del lavoro. Lo fai con un altro spirito, no? Certo. Te lo sei creato tu. Certo, ma infatti io sono di quella scuola lì. E senti di avere una responsabilità per chi ti guarda? Sì, l'ho capito dopo, però. Infatti, prima ero più maranza, più impennate, più guida sporca, street illegal. Adesso, a parte che sto crescendo, perché cambiano anche gli interessi. Non c'è più la sparata, non c'è più il raduno, magari in zona industriale, all'impennare. C'è l'uscita tranquilla con la ragazza dietro, bella lì, andiamo a farci la mangiata, tagliare i salumi. Quindi cambiano anche, ed è bello anche raccontare la trasformazione di te. Il tuo pubblico che ti seguiva ai tempi, ti segue ancora adesso, e anche lui è cresciuto insieme a te. E magari ha avuto quell'evoluzione educativa. Ed è in linea, è in linea con te. Ma questa cosa ti ha mai creato problemi con le aziende? Una volta ho ricevuto un no da un'azienda che fa sospensioni. Si può dire chi è? Meglio di no. No, anche perché non era un'azienda costruttrice, era un preparatore. Ok. E guarda, non siamo in linea con la tua comunicazione perché sei un po' frizzantino, sopra le righe in strada. Da lì ho detto, cazzo, effettivamente... No, perché io ho avuto una persona che mi ha gestito in parte, e poi infatti rigerò la domanda anche a te, il quale comunque mi diceva che cerca di mantenere sempre una sorta di decoro, piuttosto che questo e quest'altro. È cosa buona e giusta. Sì, sono però dell'idea che come avere un viale vuoto davanti e avere 130 cavalli sotto il cuore è difficile. È un MT-09 poi, cioè è stata progettata in Fuglio Testi. È presente in Fuglio Testi. Gli amici milanesi sapranno Fuglio Testi. Infatti ti vedo ogni tanto passare di lì su una ruotina. Capita. Eh sì. No, beh, capita tuttora, c'è l'indole un po' pirla, maranza, c'è. Vabbè, passione. Eh, poi autocontrollo e... Dipende dalla moto che stai guidando. Io so di una storia. Triumph. Ok. Best moto. Sì? Giornalista che esplode per inseguiti. Lo schiappa. Eh, vedi, lì è proprio il concetto del motociclista che si gasa, che si stringe la vena e si gasa e fa il po' il pirla. Però in realtà è dovuto a un suo problema fisico non indifferente. Ok. Non so se sei, conosci forse Luca Salvadore. Sembra un compartimentale. Bravo. Ragazzi, io so tutto. Cazzo. Ha avuto questa cosa qua. Quindi ci siamo ingrallati, io e Lorenzo Schiappadini andiamo più o meno alla stessa velocità in pista. Cioè ci comportiamo bene senza fare troppo gli idioti. Giusto, ok. Un filino. Non oltre. Quello è sempre, secondo noi, il range giusto. Facciamo un po' di scambi, ci gasiamo, anche perché gli altri giornalisti sono più cauti in pista. Noi facciamo un po' i pirletta, cazzo lui, vedo che non chiude il gas, in quella famosa curva Imola, con la Speed 1200. Fa il curvone fortissimo e dico, ma aspetta, sto ragazzo non frena. Oh, Lorenzo, non frena, non frena, non frena. Che poi sono frangenti, eh. Non frena, non frena. Vedo che fa fatica, pesta il freno posteriore. Chiaramente il freno posteriore è grosso così, non ha la potenza dell'antreno. Figlia, va lunghissimo in ghiaia fino alla barriera. Pazzesco. Passando davanti a uno, sai tipo i scenari da Valentino Rossi? Sì, 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 sì. Cioè, terrificante, ragazzi. Ma no, io l'ho visto. È un disastro veramente forte. Tutto perché ha avuto il problema dell'avambraccio. Pazzesco. Del tunnel carpale, adesso non so bene cosa sia, no? Sì, sì, compartimentale. Che succede a tantissimi piloti, non gli si è aperta la mano. Quando sei tanto in tensione in pista, capita, a me è capitato, eh. Sì, soprattutto le due dita, il dito solo, dicono che è meglio con i due. Sì, stai attento perché sei così gasato, sai, chiaramente non siamo allenati come i piloti. No. La tensione di otto giri, otto turni, gasato, veloce, con quelle cavallerie, cazzo, scendi che non hai più controllo delle mani, eh. Sono tutte rigide. Pazzesco. Rigor mortis, cazzo. Quindi, sì, in mezzo di disastro, scampato. Però dai, è stata un'esperienza. È stata un'esperienza. Sai chi l'ha comprata? Spavald da... No, scherzo. Era quella di Spavald. Piegata a metà. Una banana. Scherzo. Un giro solo in tondo. Senti, ma quando ti sei approcciato a questo mondo, perché quello che mi piacerebbe far trasparire dall'altra parte è un po' il capire come sei diventato, chi sei diventato, e soprattutto capire se ci sono state delle difficoltà nel tuo percorso. Tantissimo. La domanda che faccio magari spesso è, tu sei seguito da un'agenzia? Lo eri? Allora, no. Mi sono sempre fatto i cavoli miei. Bravo. Che è abbastanza raro, ho notato, nel mio mondo. Sì. Perché mi piaceva e mi piace tuttora andare a chiacchierare con il boss dell'azienda. Cioè, credo sia una cosa, boh, fighissima, no? Ovviamente, economicamente parlando, da businessman, ti dico, è meno performante. Perché hai la faccia giovane, sei un ragazzo, non sai esprimere. Non ti prendono bene sul serio o altro. No, 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 ti prendono sul serio, ma magari non sai esprimerti come chi lo fa dimestere da certi anni. Però impari, cazzo. Hai un bagaglio culturale, secondo me, fighissimo. E poi, questa è la mia caratteristica, probabilmente sbaglio, però io parlo con le persone come se fossero tutti amici. Ok. Al di là della loro figura professionale, chi sono, quanto hanno fatturato, cioè, non interessa. Io parlo con te come se stessi parlando con un mio amico. Ok. Stimandoti, chiaramente, e rispettandoti, chiaramente, educazione. Però mi piace costruire i progetti, eccetera, chiacchierando direttamente con i boss. Ok. Il progetto più bello che hai fatto? Che ti ha gasato di più? Eh, cazzo, ce ne sono un po'. I primi tre, tocco. Ah, i primi... Anche, si può neanche pensare all'atelier come progetto. Quello che vuoi. Quello è un atelier. Beh, cazzo. Arrivare a avere il tuo studio, il tuo mondo. Allora faccio un salto indietro. C'è mai stato un giorno che hai detto, cazzo, ce l'ho fatta? Sì, il problema, forse, vediamo se capita anche a te, che è un mondo abbastanza tossico, quello di noi creator, perché vuoi sempre... Porca parola. Come fai ad accontentarti? Cioè, è difficile, cazzo. Però c'è stato un salto oggettivo, cioè, credo, per lo meno, no? Il motosalone, cioè, organizzare il motosalone, perché siamo sempre io e Matteo. Fa ridere, ma siamo sempre in due. Organizzare il motosalone, vedere i ragazzi che vengono lì per te, fare lo show col telo con la regina del motosalone, con tutti che applaudono, facciamo casino. E' impagabile, raga, è un'esperienza che... Sì, sì, sì. Però ne vuoi sempre di più. Certo. E di andare avanti con i contenuti, di raccontare i progetti. Cioè, quest'anno, non so se si può dire, quando è che va in onda questa cosa? Tra due domeniche. No, vabbè, quest'anno ci sarà una grandissima sorpresa, molto potente, che va oltre al motosalone. Ok. E cazzo, è un altro traguardo importante che faremo. Ok. Perché abbiamo... Vabbè, tu dimmelo, poi tanto lo tolgo. Quindi abbiamo anche le spalle grosse di una persona che, cazzo, è del settore lì. Ok. Quindi bipa tutto e poi metti questa parte. Sì, 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 sì. Assolutamente. Grandi ragazzi, vi aspetto. Bello, cazzo, è figo sta roba qua. Perché poi io sono il tipo di persona che è felice quando vede gli altri felici di fare quello che fanno. Ok. Sì, però è tossico il nostro mondo, eh, c'è da dirlo. Cioè, usciamo dalla nostra bolla di che è figata tutto. Non è vero, raga, cioè, è faticosissimo fare quello che facciamo. O sbaglio, non so, eh. Io sono d'accordo. Questa forse è la mia versione. Tu hai sempre fatto tutto da solo, poi c'è stato un punto nel quale hai dovuto prendere qualcuno che ti facesse il videomaker? O hai sempre avuto un videomaker? In realtà, fino a due mesi fa montavo ancora io, eh. Ok. Cioè, adesso sto un po' trovando qualcuno. Perché ti ho detto, è veramente difficile che stiano al tuo passo, alle tue regole, al tuo modo di pensare, alla velocità. Io, se devo finire un video, non vado a casa alle sei. Devo finire un video. Sto lì, cazzo. Anche perché è il tuo studio. L'hai fatto tu. È il tuo lavoro. Gas a martello. Cioè, mi sembra più un discorso motivazionale da... No, invece... Però è veramente così la vita, cioè. È giusto perché io mi sono ritrovato recentemente a dover fare un video per qua, insomma, che fosse emozionale, col drone, insomma. Mi hanno detto, guarda, bisognerebbe consegnarlo entro dieci giorni. Ho detto, sai cosa c'è? Io da oggi qua non mi alzo se non l'ho finito. Ok. Perché? Perché purtroppo siamo schiavi di una calendarizzazione. Quanti video pubblichi tu a settimana? Una, uno. Una settimana? Sì. Ok, io sono sui due e sto aggiungendo il terzo. Eh, vorrei due, ma non so con chi mi li monta. Ok, quindi ti capisco benissimo. L'altra mia domanda per te è, hai testato un sacco di moto? Sì. Ok. Sì. Quasi giornalista. Quasi. Io, infatti, volevo arrivare proprio lì. Perché io ho collaborato, una mini collaborazione l'ho fatta anch'io con Yamaha, eccetera, eccetera. Sì. E facevo parte degli influencer. Gli ambassador. Sì, che non sono neanche loro come definiti. Ok. Però ti dicono, porta un po' di visibilità, io nel mio piccolo ci ho provato. Sì. Il rapporto con i giornalisti lì, sai che ti dico? Credo, eh. È cambiato. No, ma aspetta. Credo, credo di essere comunque abbastanza rispettato nel settore. Oh, magari mi sbaglio, eh. Sotto stanno guignando, stanno ridendo. Però, nel senso, anche con Lorenzo Schiappadini si è sbloccato un settore, quello del giornalismo, che secondo me era un po' troppo vecchio a scuola, con un nuovo sistema di comunicazione, interazione con noi anche, che alla fine, perché noi funzioniamo? Perché ci seguono i ragazzi? Perché parliamo una lingua di tutto. Bravissimo. Cioè, ci deve essere giornalista, ma secondo me è anche prezioso il mio commento, perché è quello dell'utente finale vero. Certo. Cioè, il giornalista, anche io quando devo comprare una moto, guardo il video di Moto.it, Lorenzo Schiappadini che fa il test, quindi sia quello istituzionale che quello un pochino più del settore da smanettoni. Certo. Però poi, il terzo, quella parte di slang, di sensazione di guida vera, cruda, ci deve essere. Secondo me ci deve essere, siamo noi. Sono d'accordo. Perché sono un amatore normale. Però non era così, secondo me, all'inizio. Io quando l'ho vissuta ti guardavano come per dire chi è sto coglione. Ah, vabbè. È oggettivo. Vabbè, ma ci sta, come tutte le cose, quando arrivi. È la novità che spaventa. È una novità. È la novità che spaventa. Chiaro, chiaro. Però si è trasformato. Sono contento che stiamo andando nella direzione giusta. Bene, ci sta. Sì, sì, sì. Ho un'altra domanda per te. Che rapporto hai con i tuoi colleghi? Nel senso, hai iniziato qualche collaborazione con qualcuno, sei diventato poi effettivamente amico, ci riesci a mangiare la pizza? Sì. O c'è quella roba di ognuno sta a casa sua, ma guardo il meno possibile, mi faccio influenzare. Sono un po' strano io, effettivamente. Forse è molto colpa mia, me ne rendo conto. Allora, io sono partito tantissimo, vecchia scuola, con Sina Gagiri, con Dennis. Certo. Grande Sina. Facciamo i video insieme, eccetera. Poi chiaramente lui è di Vicenza, quindi abbiamo preso strade diverse. Poi lui ha smesso con le moto, insomma. Ok. Però anche gli altri miei colleghi, cazzo sai che è raro trovarsi ogni tanto? Cioè facciamo fatica a organizzare una roba insieme. Ok. Quindi, una domanda di, ahimai, cazzo no. Non c'è mai stata la... Non c'è mai stata la... Perché poi siamo tutti qua alla fine, Milano, Bergamo, eccetera. A parte Spavad che è a Roma. Un po' più giù. O Freccia Verde. Però è fattibilissimo, ma effettivamente anche per mio problema è di organizzazione. Ok. Cioè io sono qui. Sempre. Veramente. E tra l'altro sono anche disorganizzato. Corro con un somaro senza senso. A destra e a Manca. Sì. Quindi mi piacerebbe ogni tanto. È capitato, sì è capitato. Ok. In pista con Salvadori, Nasca e Guidomeda. Bello. C'è altra scena della Madonna, in pista con Guidomeda. E va fortissimo Guidomeda. Sì, tra le altre cose sì. Ma veramente forte. Manico pazzia. Pasto scatenato. L'hai già portato qua Guidomeda? No. Mi chiamogli la colla. Non l'ho ancora portato e... Sai cosa? Purtroppo, essendo io un super appassionato di motori, sto portando gente che fa solo motori. Ragazzi. E quindi è stato diventato come una cricca. A parte Blink e Fabio Alisei di Radio 105. Certo. Per il resto sono... No, anche Warez in realtà che è un cantante, un rapper. Ok. Però c'è YouTube Motori. Stai invasione di motori. Eh sì, perché sono tutti qua. Perché io penso... Piano portano le moto. Super appassionato. Quindi ci sta... Senti, altra domanda. Entriamo un po' col ditino nella piaga perché a qualcuno piace sentirlo, poi puoi rispondermelo a rispondere. Aiuto. Lato pecuniario. Ok. Tu di cosa vivi? Di cosa vivo? È difficile, cazzo, perché ho la fortuna... È interessante capire come hai differenziato la... Ho la fortuna di avere diverse entrate. Ok. Perché mi sono creato veramente un'infinità di percorsi. Se vuoi raccontarmi qualcuno, eh. Noi in primis realizziamo campagne, comunicazione e gestione della comunicazione delle aziende. Che nessuno sa. Esatto. Esattamente con la faccia. Quando lo dico, dicono... Cioè, quindi tu fai strategie marketing di comunicazione per altre aziende? Sì. Si può dire il nome di una? Sì, come no, ma anche e soprattutto nel settore moto. Quindi abbiamo impianto frenante, braking, alpina, ruote. La gestisci tutto tu? Sì. Figo! Che spettacolo! Quindi realizziamo le foto, la comunicazione, insomma, c'è tutto un percorso e... Sempre sotto un noisy style? Sì, sì. O è un ramo diverso? No, 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 era partito singolo da me e chiaramente con l'espansione del team... Ci siamo espansi. Eh beh, bella lì, certo. E quindi questa è una delle entrate più importanti. Ok. Poi abbiamo chiaramente il mio mondo YouTube, intendo non le adi di YouTube, che sono ridicole. Ok. Non so i miei colleghi come fanno a guadagnare così tanto. Però, come dici, come monetizzazione? Eh, te, io se ripago la benzina dell'uscita... È tanto. Sì, sì, no, ma non sto scherzando. Ho qua le prove. Però si lavora tanto, chiaramente, con gli sponsor dentro i video. Quindi, che alcuni danno fastidio, io non capisco il motivo. Il video è gratis. Mi spacco... Cado, mi rompo? No, mi spacco... Per farlo... Il culo. Esatto, il video. Se ti inserisco, cazzo, uno sponsorino, beh, la dì, non dà fastidio, no? Allora, io ho notato che... Dipende sempre come lo fai. Ultimamente, purtroppo, soprattutto per quanto riguarda l'Italia, la gente, scusami, ti passo dietro, ha sempre questa roba del... Ah, devo... C'è la pubblicità, i soldi, è il nemico dell'essere umano. Che cazzo io di cosa vivo? No, è vero. E quindi... No, vabbè. Mentre in America questa roba qui è molto cruciale. No, lì è un po' trash, è quasi trash. Cioè, è anche troppo. Esatto. È anche troppo. Però questa roba qui sono... Ecco, hai notato anche tu l'algoritmo di YouTube che è completamente cambiato? Sì, sì, è un botto. Non so se sia successo, sì. Non performano più i video una volta? No, no, no. Non più. Però, vabbè, ti devi adattare. E fai strategie e cose. Poi inizi a farle pensate che, oh mio Dio, faccio questo e quell'altro. Poi l'algoritmo ti penalizza. Stop. Beh, anche io, guarda, questa roba qua che stiamo facendo, forse ho sbagliato io, nel senso che avrei dovuto aprire un canale a parte e fare solo un podcast, questo è un consiglio che mi hanno dato in alcuni. E secondo te cosa ho fatto io? Del mio podcast. Stessa roba. Ho fatto il mio podcast dentro il mio canale YouTube senza aprirne un altro. Eh, però perché non hai aperto un canale parallelo? Ma perché il mio canale sono io. Perché devo aprire un canale parallelo? Alla domenica c'hai la puntata del podcast. Poi c'è sempre il motovlog, il video normale, l'anno da settimana. Anch'io ho fatto questa roba. Però da alcuni, me l'hanno detto alcuni, eh. Perché avrebbe performato di più. Mi hanno detto. Però non lo so. Col seno di poi? Non ne ho idea. Ah, posso dirti? Vabbè. Sono bravi tutti. Quindi. Non lo so. È un 50-50. Da una parte avevi la strada del inizio da zero un canale. Dall'altra avevi, forse poteva andare. Non lo so. Non si sa. Beh, quindi mi dicevi. Moto, B... Moto, scusami no, gestione social. Quindi sponsor dei video. Ok. Un po' di adividi a YouTube, ma poca roba. E realizzazione di video per aziende. Quindi abbiamo tutta l'attrezzatura, abbiamo le competenze e un po' di idee creative. Quindi facciamo i video. Ok. Fine. Direi che queste qua sono le quattro più importanti. Ah, cacchio, no. Fischia. Noi si stai, le moto. Eh, ma perché? Ciao, faccio moto. Faccio moto, scusate. Non lo sono ricordato. È comunque un settore... Cioè, costa veramente tantissimo fare una moto, eh. Parliamone. Cioè, non abbiamo margini che un mio Dio. Quanto costa fare una moto a te? Indicativamente. Indicativamente? Perché è la domanda che tutti fanno. Sì, lo so, però. È per dare un metro di paragone a uno che dice... Magari bastano 5.000, magari non me ne servono 15. No, allora, secondo me te la cavi, se vuoi fare un wrap con una grafica bella o una vernice, due accessorietti, 2.000 euro li fai. Ah. Vuoi lo scarico? Eh, cacchio, ormai anche lo scarico, eccetera, costano ormai. Cioè, una volta io mi ricordo che quando ho iniziato ad andare in moto, solo lo slip-on te la cavavi con 400 euro. Ok. Non esiste più una roba del genere. A parte che adesso gli scarichi li fanno tutti saldati. Ok. Quindi di cambiare tutto l'impianto. E poi stiamo raggiungendo 1.600, 1.700, 1.800, omologato 1.800, attorno a quelle cifre là. Chiaramente si parla di brand di qualità. Noi lavoriamo fortunatamente con Spark, una famiglia strepitosa. Cioè, prima della collaborazione, che poi è venuta sempre per l'allineamento di pianeti, è proprio bello lavorare con loro perché sono una famiglia. Tipo casa. Ma tu non hai idea che è bello il rapporto. Cioè, è inspiegabile. Il motivo per cui ci lavoro come se nulla fosse. Sono, secondo te, davvero degli ottimi scarichi? Sì, sì, sì. Cioè, l'impegno con cui lavorano. Ok, questo è una bella cosa. Con cui lavorano. La voglia di fare, ti ascoltano che non è banale che io arrivo splendido in azienda e gli dici, guarda, io farei così. Ma sai che facciamo questa cosa come strategia? Beh, questa è una figata. Cioè, ma è stupendo, no? Rispetto massimo, io nei loro confronti, loro ne... Cioè, quindi si lavora da Dio. E attorno comunque fai dai 2.000 ai 3.500 euro, te la cavi. Ok. E fai un bel lavoretto. Pensavo di più, posso dire? Pensavo di più. Ma sai perché li evita? Perché poi hai gli accessori al CNC. Eh, vuoi. Lì, se non stai attento, 1.000 euro subito partono. Vuoi il carter frizione trasparente? 1.000 euro. Ok. Non esiste, non è che ho sconti particolari. Strani, che dici, sai... Ormai questo è un bot, anche perché partì da una pizza così di alluminio, quindi... Tutto da... Eh, insomma. Anche conoscere... Mi ha dato la fortuna anche di... Vedi, il manager, non ho un manager, perché andare anche a vedere le aziende, conoscere il boss, vedere come fanno i pezzi... Vai tu, scegli tu... No, ma altro che, cioè, è impressionante il costo del materiale, la lavorazione per farlo, e acquisisci il valore. Cioè, adesso capisci perché quella cosa costa 800 euro, e dici, ma come è possibile? Ok. Cazzo, parte una torta in alluminio, lavorata, la macchina... Una torta in alluminio, e c'è una torta così? Ma i cerchi jonic dell'F3 prototipo? Una torta veramente di alluminio, alta così, e c'è una macchina che riesce a lavorare, ricavata dal pieno. Fa pezzasco. A voglia, ecco perché costano così. Bellissimi, tra le altre cose. Eh, cazzo. Ovvio che sono cose di nicchia. Non tutti ce l'hanno, non tutti lo vogliono, e non tutti se lo possono permettere. Però, una vernice, o un wrap, eccetera, con il 2.000 lo fai qualcosa. Altro che... Ottimo. Mettete da parte i soldini, dentro il porcellino, e poi a fine anno si spacca il porcellino. Dove ti vedi tra dieci anni? Figa tosta, eh. A così sbiello, grippo, perché se vado avanti così, con questo ritmo, raga, male. Però, perché poi non so te, nella tua cucina, eccetera, ma quando una roba è tua, cioè praticamente torno a casa per dormire. Potrei avere anche una brandina di fianco l'ufficio, cioè dormo in ufficio, tra poco. Perché è una cosa che ti piace, quindi è una figata. Tra dieci anni dove mi vedo, non lo so, ti dico, è difficile programmare adesso. Una volta ero più sicuro. Con l'algoritmo che cambia, le iniziative nuove. È per questo che... Cioè è tutto che dici, come cazzo, vivi, puoi programmare secondo me entro due anni, ma dieci impossibile ormai, eh. Il tuo sogno? Dove ti piacerebbe essere allora a questo punto? Il mio sogno è di fare un format... Televisivo? Non è neanche detto, non è necessario. Tanto lo share nostro è... Pare un amico televisivo. Sì, non pari, non oso ne immaginare, però. È molto buono. È di fare un format fighissimo, mondo moto. Stile uno che è molto famoso, londinese. Top Gear delle moto. Saluti, se lo farete voi, bastardi. Fammi, non fatelo senza di me. Chiamatemi, grazie. Però quel format che mi farebbe impazzire. Cioè io, quell'avventura spazza, come facevano Top Gear, Jeremy... Abbiamo budget per questo, dobbiamo fare da lì a là cosa scelgo. Ma che spettico? Bello. Il mio sogno, cioè vivrei di quello. Anche se mi danno mille euro al mese. Fanculo, lo faccio. Figo. Le tre moto più belle che hai avuto, provato, eccetera? L'F3. L'F3 è sicuramente una delle. Mettere in scala è difficile. No, io ti dico, fammi tre nomi. Tre nomi. L'F3 è prototipo. Ok. Una molto bella che ho provato. La Speed Triple di Triumph, 1200. Ok. Che non so perché, non so se non sia stata capita oppure... Non la vedo molto in giro. Ok. Però spacca di brutto. E le metti dieci. Vecchia scuola. Le metti dieci? Sì. Che è un mio pallino un po' fisso. Però secondo me spacca. Non male. Non male. Bella risposta. Questo è il mio piatto preferito. Cazzo. Si può vivere solo di salmone nella vita? Non so. Credo che tra dieci anni ti troveranno le arterie con la plastica dentro. Se mangi solo salmone per dieci anni. Però tutto è possibile nella vita. Come si fa a togliere le lische? Le abbiamo tolte prima. Le abbiamo tolte con questa qui. Pinsettina. Quindi tu ti fidi e poi... Cioè, ti fidi nel senso... Vado alla ricerca? Vado alla ricerca, sì, perché sono dove sono. Ah, ecco. Perché è come la spina dorsale tua. Tutti gli esseri umani. Poi sei 200 kg o 50 grammi. È sempre lì. Perché il mio trauma è trovare le lische? No, no, no. Con me niente traumi. Ok. Niente... Cioè, almeno non di questo tipo. Dopo che hai pulito un calamaro direi che ci siamo, no? Ok. Non avresti mai pensato di farlo, quindi... No, direi di questo. Va bene così. Cosa volevo chiederti d'altro? Come riesci a gestirti il tempo? Uh. Nel senso, riesci... Ho toccato un tasto orrendo. Tu non vivi più con i tuoi? O sì? Eh, sto andando... Ti stai spostando, stai migrando. Sì, stai migrando. Stai facendo quel grande passo. Ho fatto un po' fatica perché magari... Ah, ho 26 anni, ancora vivi con i tuoi. A parte che sono fortunatissimo che i miei si fanno i cacchi loro, carta bianca. Però a Milano è molto difficile andare a vivere da soli se vuoi restare dentro alla Circonvalla, per intenderci. Ok. E così è, infatti, però ce l'ho fatta a settembre. Settembre? Si rogita. Si rogita. In realtà nessuno lo sa, è la prima volta che lo dico. Ok. Credo che lo sappiano i miei amici e nessun altro. Con la fidanzata? Sì. Sempre lei da tot? No. Beh, nuova, insomma. Pochi chilometri, sempre in box. Sagi andata, è sempre casa madre. Però tre anni. Tre anni. Ah, tre anni. E quindi in casa insieme? Sì. Ti senti pronto? No. Infatti io vedo che tu hai un anello, com'è l'experience? Io, a me è andata di culo. Ok. Io ho trovato una donna speciale che mi sopporta. Sono diventato papà da cinque mesi. Cazzo, che figata. Sì, ed è uno schiaffo fortissimo. Minchia immagina. È uno schiaffo fortissimo. Minchia cinque mesi. Sì, io in realtà sono sposato da cinque anni, fidanzato da otto, bambina di cinque mesi. Bello. Prefiso. Bello, ma impegnativo. Però è una cosa che consiglio di tutti. Ecco. Però stai dormendo, non hai l'occhiaio, vedo. Riusciamo a incastrarci. Riusciamo di incastrarci. Che rapporto hai con la cucina? Ma è molto bello. A me piace tanto. Mi piace? Perché la cucina è, secondo me, è paragonabile esattamente al mio mondo custom special di Noisy Style. Perché io, tipo, una cosa che faccio spesso, a San Valentino, non vado fuori. Non vai fuori. Si sta a casa, si cucina per le proprie donne e si fa le cose fatte bene. Si fanno le cose fatte bene. Cioè, io ci tengo veramente a cucinare tutto giusto, a fare il menù che poi segue tutto un percorso, il risotto che c'ha dentro una cosa che poi richiama il secondo. Menchia, è grande. Mi gaso un botto. E presentare soprattutto, che è una cosa fondamentale, secondo me, anche una cazzata, l'avocado. Ma se la presenti bene, spacca. Ok. È come le moche. Beh, sì, perché sei uno comunque molto estetico. Cioè, il piatto giusto. Sì, io mi gaso tantissimo con l'estetica dei piatti. Questo è una gran figata. Non te la sapevi. No, no, perché è bello. Perché, sai, ognuno di voi ha una propria storia da raccontare. raccontare, giustamente, ognuno di voi ha la propria vita. Quindi, però, obbligatoriamente, quello che la gente purtroppo non capisce, è che tu sarei obbligato a mangiare per tutta la vita, almeno due volte al giorno. È certo. Sì, sì, sei spacciato. Cioè, o ti arrangi, impari, in qualche modo. È vero, è vero. Ok. No, io ho la fortuna che, a parte che Alessia, la mia ragazza, è del sud, quindi in teoria l'ho presa buona. Ok. L'ho presa buona. L'ho trovata al banco frigo e l'ho presa buona. Cioè, l'ho scelta giusta perché sa cucinare bene. Ma anche a me piace cucinare, cioè, non disprezzo, anzi, molto bello, mi piace. Vai spesso fuori a mangiare? Cioè, mangi... Beh, sicuramente sì. Allora, sì, purtroppo. Purtroppo, perché, infatti adesso mi sono anche iscritto in palestra, eccetera, seguo anche tutta una dieta giusta. Ok. Che mi gasa. Quindi sono molto più regolare, però purtroppo sì. Ok. Sì, spesso sì. Se dovessimo andare fuori a pranzo insieme, dove mi porti? Bella domanda, aspetta. No, a questa non... Non ero pronto. Sì, perché è una domanda che faccio... Sì, perché? Per capire i gusti delle persone. Sì. Cioè, la domanda è, sai, io e te, comunque, adesso ci stiamo conoscendo, poi approfondiremo, quindi sarebbe una roba facile, no? Sì. E quindi... Sai perché odio questa domanda? Perché mi capita spesso, anche con Alessio, quando sei affamato dieci minuti di capire dove andare a mangiare, non sai mai nessun posto. Eh, infatti. Poi, quando invece sai cazzeggiare sui reel, sui tiktok, eccetera, che ti salvi, bellissimi i ristoranti e tutto, allora lì sei trip advisor. Ok. Ma quando scegli di mangiare non sai mai dove andare. Non so se ti capita anche a te, probabilmente no. Beh, no, 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 sì. Lo fai tu. No, 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 allora, io sono uno di quelli che mangia tanto fuori, perché mi piace capire, ok? Beh, ci sta. Faccio anche video recensioni, mi è capitato di andare nei ristoranti, parlare, raccontare, perché lo può fare il palestrato. Certo. Che si ammazza di proteine, perché non posso raccontare il punto di vista di uno che l'ha fatto per vent'anni, no? Quindi lo trovo comunque in linea, ha senso il fatto che io lo faccia. Però no, è interessante perché mi piace capire dove mi porteresti. A pranzo. A pranzo. La volemose bene, andiamo. Va bene? Ma tutto va bene. Era solo una curiosità per capire... Andiamo a mangiare romano? Che è tipico milanese. Anche quello. Cazzo, non lo so. Perché per esempio, ecco, io sono un super fan della cucina orientale. Minchia, un botto anch'io. Ok. E quindi niente, volevo capire così. Insomma, una domanda un po' così. Quello che viene, viene. Non mi ricordo mai i nomi, aspetta. Ma a me fa niente, non è mica obbligatorio. Questo è un dato molto buono sul filo. Cosa ne penso? Kazan ci sta. È lui? Esiste Kazan qua? Sì, ce ne saranno centinaia. Ma non è quello, Luke Knight, è quello giusto. Ok. Quello bello. Lo conosci? Sì, sì. Com'è? Carino. Molto carino. Io ti consiglio. Non l'hai detto con sicurezza. Perché io ne ho uno nel cuore. Ah, ecco. È come dire... No, no, vai, è lo suggerimento. Il suggerimento è Ippo. Non conosco. Ippo Sushi Boutique. E dov'è? Io non sapevo fare il sushi. Ok. Io ho una storia poi un po' diversa, nel senso che ho fatto tutt'altro nella vita, ho fatto il tuo percorso, poi ho iniziato a cucinare. Sono una di quelle persone che se non sa una cosa la vuole imparare. Come fai? Vado dal migliore. Mi sono andato a lavorare gratis due mesi. Ci sta. Ah, geniale. Per imparare a fare il sushi. Bello. Questo è da dire. Stessa cosa ho fatto col pane. Andato in panetteria. Ciao, posso lavorare gratis due mesi. Geniale. Ok. Esattamente quello che non fanno i giovani adesso. Esci da lì e cazzo, è difficile che io non sappia raccontarti qualcosa sul pane, capito? Sì, certo. E quindi... Bellissima questa cosa, sai? Io ti dico, se ti piace la cucina orientale, portati il porcellino. Ah, sì, sì. Sicuro. Il porcellino che non ho... Al posto di fare le grafiche non esistate, andiamo. Il pezzo del porcellino, la gamba. La gamba del porcellino la usiamo per spendere un centello a cena, ma ti svolta la serata. Cioè, ti proprio voli. No, immagino. Quanto siamo? Un'ora e dieci. Un'ora e dieci. Va bene. Io direi che... Ma one take non ho mai premuto no. Eh, vedi, la figata dell'R7 è quella. Sti cazzi. Eh sì, guarda. Continua, guarda che c'è il rack in alto a destra. Sì. È così. Hai cliccato rack, sì? Ah, no, cazzo. Ah, no, cazzo. Ricominciamo da capo, eh. Ricominciamo da capo. Lu, allora, riassettiamo tutto e iniziamo l'impiattamento. L'impiattolo, uno tu. Vai, sui da l'impiattamento. Uh. Ma cazzo. Però non ho le mie salsine, non sono... Adesso, adesso, adesso facciamo tutto. Ok, ok. Va, fermo se non mi piace. Sì, se no, che avevo visto il culo, non mi piaceva. Ok. Perché sei parti prevenuto. Bello. Siamo arrivati nel momento nel quale ci si prodiga, ci si diletta nell'impiattamento. In realtà non è una gara, è semplicemente questione di sentimento come nelle cose. Il principino mi fa, oh, io voglio il piatto nello. Perché sono risate. Vi diamo il piatto nero, ok? Tutto facile. Recupero tutti gli ingredienti che ci vogliono e vediamo cosa salta fuori. Io ti faccio vedere il primo, il secondo lo fai tu. Va bene? Va bene? Sì, chef. Sì, ah, scusi, sì, chef. Esatto. E DJ, sì. Scusa. Citazione. Il nostro amico, canna. Cannabinoide. Allora, abbiamo fatto anche il sashimi. Cioè, veramente, siamo... Erba cipollina, ti piace, Lu? Sì, sì. Scandiamo. Perfetto. Allora, qui abbiamo un po' di ingredienti. Cosa abbiamo fatto? Semplicissima tartare di gambero. Ok? L'abbiamo condita con olio, sale e pepe. Qui abbiamo il salmone. L'abbiamo tenuto al naturale perché è un pesce molto grasso, quindi non c'è bisogno di aggiungere grassi. Ma qui abbiamo... Mamma mia. Mamma mia. Suamesta calamaro. Ok? Questo vuole ricordare un piatto tipico romano. E tu direi, che cazzo stai dicendo? Che cazzo stai dicendo? Il pesce crudo, un piatto tipico romano. Dimmi se non ti ricorda vagamente la caccia e pepe. La caccia e pepe, cazzo, sì. Ok? Perché? Eh, perché... Perché non sa di pesce? Eh, perché intanto il calamaro crudo non l'hai mai mangiato, quindi non puoi sapere che gusto ha. Però guarda, noi lo arrotoliamo e facciamo un cacchio di spaghetto. No, che figata. Ok? Sì. Bam. Semplice, veloce. Ok? Ok. Questo te lo lascio per te così lo provi a fare tu. Poi, coppa pasta piccolino. Ok? Noi prendiamo un bel cucchiaio. Anzi, ti dirò di più. Ti dirò di più. Ti dirò. Vi dirò. Vi dirò. Ti dirò. Ti ricordi il meme di... Ti dirò. Che ne... No, fammi sto giochino che non l'ho mai capito. Sei pronto? Ho diventato pazzo. C'è poco prodotto. Qua praticamente il gioco sta nel... A parte che c'è un pezzettino di cacchina. Che sicuramente ci l'hai dimenticato tu. Esatto. Luca cattivissimo. Ok, e facciamo questo. Non capisco mica questo. Ok, scucchiai così. Giri e tiri. Va bene, va bene, va bene. Ok. La figata è che... Guarda che bella roba. Mamma, che bello. Spettacolo, eh? Sì. Ok. Molto. Poi... Tartar di salmone. Prendiamo un cucchiaio un po' più piccolo. Il mio consiglio è lavorare di punta. Perché la punta del cucchiaio, ovviamente, è un po' più stretta e ricorda come una penna per scrivere. Quindi ci rende automaticamente più precisi. Vai. Ok. Quindi io prendo... Vado giù di punta. Poi, questa diventa la posizione. Quindi pollice medio oppure pollice indice, come vuoi, lo spalmiamo. Fare questa cosa qui consiste... Consente di avere una omogeneità e lo vedi tu dove non sei omogeneo. Vedi che qua è un po' più basso, qua un po' più alto, quindi basa quanto comprimi e fai questo movimento. Ok. Poi, quando devi sfoderare, tieni appoggiato e spingi verso l'alto. Ok? Oh, che bella! Abbiamo fatto la formina. E poi andiamo a recuperare due pezzettini di sashimi di tonno che abbiamo fatto prima. Il tonno come fai a capire se è buono e se è fresco? Lo capisci tanto dal colore e dal fatto che il pesce buono non ha odore. Ok. Ok. Quando entri in una pescheria e senti tanfo di pesce, c'è qualcosa che non manca. Ah, ok, bene. Il pesce, quando è fresco, ha odore. No, è vero. Zero. Ma che buono figa! Ci laverai dentro. Ok. Io lo asciugo un pochettino perché mi piace avere le cose fatte bene. Tre è il numero perfetto. Ok. E ce lo andiamo a mettere così. Poi, per impreziosire, non c'è cosa più bella del salmone con la filadelfia. Giusto? Ah, sac à poche. Sac à poche, pressiamo fuori, ok? E qui ci possiamo sbizzarrire, nel senso che puoi fare un puntino, due puntini, tre puntini, quattro, cinque e sei, ok? Poi abbiamo l'avocado. Come lo uso, Luca? Ma un po' come ti pare, nel senso che puoi farci la crema, puoi farci la purea, puoi farlo in guacamole, puoi farlo un po' come ti pare. Noi, in questo caso, teniamo la parte fuori perché ci dà struttura. Ok. Lo appoggio dalla parte del taglio. Uno, due, tre, quattro. Ok. E poi cosa faccio? Me lo sbuccio. No! Capito? Sai che non ho mai tenuto la buccia. Quindi magari mi ci faccio la mezzaluna. Geniale! Ti fa struttura. Esatto, esattamente. E poi abbiamo il discorso dell'erba cipollina, che secondo me è sempre una figata da mettere col gambero. Quindi la vado a recuperare. Sistemiamo Bagdad. Ok. Questi qua sono utilizzabili. Questo ce lo mettiamo di qui. Questo di qui. Anzi, qua dentro così ce l'hai già per dopo. L'erba cipollina si picchietta, si parte dal fondo. Ok. Che è bella pari adesso. Super sottilissima. Cioè, vada la natura, cosa crea? Vai, che roba. Pazzesco. Bellissimo. E con questa roba qui, prendi la puntina, mettiamo un po' di verde dove verde non c'è no. Oh, botta di colore. Vai. Adesso a questo punto, giusto perché voglio fare il fenomeno, mi prendo il sesamo bianco e il sesamo nero. Guarda quanto cambia, solo mettendo... Eccoci qua. Sembra una stupidaggine. Sì, se no, no, sono da mica d'accordo. E a quel punto qua facciamo tono su tono. Ma che roba. Abbiamo aggiunto anche una parte croccante. Niente salsine spalmate, no? Ma no, perché qua vogliamo l'eleganza, siamo in Giappone, non dobbiamo fare i pecorari sardi qua. Questo qui, bacchettine, salsa di gioia. Sobri, eh? Molto sobri. E questo è il piatto che io ho studiato apposta per te, per il tuo sabato. Sushi, sashimi, arigato. Bellissimo. È tutto qua. Grazie, Luca. Prego. Adesso tocca a te. Scegli quello che vuoi. Libero di mettere quello dove ti pare, questo dove ti pare, insomma, quello che vuoi. Sì, sì. Fai come se fossi a casa tua. No, bellissimo la cosa che hai fatto con gli spaghetti, adesso me la spieghi. Vai. Devi cercare di prenderne. Come se fosse una forchetta. Sì, però devi prenderne di più. Capito? Devi, guarda, esatto, esattamente, cerca di, esattamente. Poi quando li hai presi, continua a girare, ti aiuti con il bordo. Con questo strumentopolo. Esatto. Puoi metterlo sdraiato, come si dice nel gergo a coda di Aragosto, oppure anche in piedi, come se fosse lo spaghetto. Però, bello. No, cazzo. Bello, bello, bello. Vabbè, 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 vabbè. Benissimo. Poi, gambero. Vuoi farla anche bene? Vuoi provare? Sì, vai. Vai. La quantità che hai è giusta, eh. Devi cercare di... Tutta? Sì, 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 tutta, tutta. Mamma, che buono. Questo adesso me lo pappo con tutto con le cucchiaie così. Cazzo mio. Ah, zio caro. Uno sciottino di gambero. Allora. Vai. No, dall'alto. È indifferente. È difficile. Però ci sei. Tu devi entrare nell'ottica, esatto, che lo devi comprimere uno con l'altro. Però... Eh? Guardala qui. Guardala che arriva! No, chef. È caduto. Madonna che pressione. Madonna che pressione. Non è facile, eh? Madonna che pressione. Piano, piano, piano. Falla con calma, falla con calma. Se lo fai con calma, via. È coordinazione, ragazzi. Coordinazione pura. Ah. Giusto. Giusto che sei andato a recuperare dove si stava sformando. Ok. Giusto. L'ultimo. Secondo me è e ci sei. Basta. Andiamo? Io non ne farei più. E poi cosa facci così? Cic. Così. Allora, aspetta, devo capire la composizione. Dai, io me lo metto qui. Vai. Esatto. Ma che bello. Eh? Vai. Via questo. Non me lo buttare e me lo mangiare adesso. Poi. Poi. Lui. Mio prefe. Vai. Mio prefe. Ti do un cucchiaio da uomo, perché quello che ho scelto prima era un po' da donna. Tieni. Ok. È più difficile però mettere... No, no, ce la fai, ce la fai. Poi lo appresti con questo comunque. Eh, ok. Cazzo. Vai. Mamma mia, chissà la MasterChef, che pressione. Tu immagina, eh? Porca mia. Ok. Eccolo lì, guarda che l'ha fatta la cacata. Aspetta, devo recuperare il danno. Perfetto. Adesso come ti ho fatto vedere prima, così. Optimus. Sai perché mi piace il sushi? Perché è un piatto stupidissimo, semplice. Ma gioca tanto l'effetto ottico, no? Cioè, come appare gli occhi. Sushi, o no? È molto scenico, è molto teatrale, però racchiude in sé anni e anni di storia. Come nasce il sushi? Ma ci sono tante idee diverse. Vero? Tante idee diverse. Dipende poi dalla regione, dalla fazione, eccetera, eccetera, ma tendenzialmente era un modo accumulato per conservare il pesce, sembra bello. Ok. Guarda che bellino. Mamma che bella. Per fortuna i sushi sono molto più veloci. Perfetto. Di me. Sac à poche. Ma ne manca il tonno. Ah, sì. Mettiamo il tonno, sì. Vai? Scegli il culo tu vuoi? Sì, sì. Con le mani tranquillo, tanto ce lo mangiamo noi, quindi. Non ci sarà nessun cliente che ti dà, ti sei lavato le mani. Ok. Uno, due, tre. Tre perché, come dice lo chef, il numero è perfetto. Bravo. Molto bravo. Bello, mi piace come l'hai inserito nel piatto. Se vuoi sac à poche, avocado, olio, pepe. Questo non l'ho mai utilizzato. Poi li metto. Vai. Fai anche una centrale come vuoi tu. Oppure tutto un velo. Va che robetta. Eh? Figa stile. Ah, e poi? Pezzettino di avocado? Palese. Io lo voglio sempre. Ah, però, è venuto già qua. C'è già. Se vuoi, ti dà una manca, lo sbuccio. Paff, paff. Se ne vuoi due. Vuoi anche un terzo? Bello. Che mi fa tipo un mojito. Eh, cazzo. Bravo. Effetto mojito. Ha funzionato. Effetto mojito. Però questo, ma è troppo grande, mi hai fregato. Oh, c'è quello più piccolo. Cambia, cambia. Sempre dare la colpa a me, subito, eh. Perché c'ho i commensali che stanno aspettando. Poi, eh... Ah, qua, dov'è? Oh, questa. Erba cipollina. Questa dove l'hai messa sull'oro? Sul gambero. Ah, sul gambero. Non ho mai mangiato il gambero, tantomeno con questo. Non ho mai mangiato il gambero? No, sui gamberi sì, ma non con la cipollina. Beh, cazzo, è un viaggio, eh. E' un viaggio, un viaggio. E' un viaggio? Secondo me sì. Come fai a recuperare un danno, poi? Se ti cade qualcosa? Mmh. Pizzettino al calamaro. Così. Sì. Ah. Sì. Sì. Va bene, parcheggiamo. C'ho a piccolo chimico da piccolo. Sì? Sì, era fortissimo. O l'allegro chirurgo. Sì, esatto. Ok, poi... Ah, ok, questo. Sesami, se vuoi. Com'è? Dove l'hai fatto qui? L'hai fatto sulla mano. No, così. Ah, sì, 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 vai, vai. È il mondo... È il mio sogno, cazzo. Avere un pantalone da sporcare così. Allora, troppo. Sì, poi è solo il polpastrelli. Non è che devi fare... Io l'ho messo sul salmone. Perché appare nero. Bell'idea. Oh, amico mio. Che dire? Il ragazzo qua ne sa. Ne sa a pacchi. Non fai solo le moto belle. Fai anche i piatti belli. Però mi scusi, il piatto nero c'è un'altra roba. Ma che bello, ma che bello. Ho dovuto dartelo per farti contento. Eh, perci troppo. Così risalta di più il tuo lavoro del mio. Sono geloso. Ah, questi su quello, quello te lo copio, palesemente. Beh, normale. Te lo copio palesemente. Let's go. Ce l'hai fatta. Ti hai visto che lavoro. Dai, ma che bello. Super complimenti. Eh? Mamma mia. Molto un bel lavoro. Mamma mia, che bello. Signori, come potete vedere, questi sono i piatti che sono stati creati. Giudicate voi se Luca ha fatto un buon lavoro. A mio avviso direi assolutamente sì. Io direi che non si devono neanche vedere la reaction, perché questa ce la godiamo noi off camera. Quindi, scrivetemi qua sotto nei commenti chi vorreste vedere nel prossimo episodio. Qua sotto in descrizione troverete i pesi e i quantitativi per replicare il piatto al medesimo modo. Io sono Luca, lui era Luca. Se il video non vi è piaciuto, MASTICA! E ci vediamo al prossimo video. Ciao raga!